Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV l'informazione locale Hanno divelto tutto ma hanno fatto tutto nel giro di poco tempo perché dopo penso che abbia suonato l'allarme e che li abbia spaventati e poi dopo sono stati via Dai 20-30 mila euro poi dopo gli strumenti anche quelli di valore economico Mi sembra logico denunciare il fatto anche perché ultimamente sono tanti Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia benvenuti a questo appuntamento con il nostro telegiornale Come avete visto dalla copertina la città insediata dai ladri non abbiamo voluto esagerare è andata proprio così la notte scorsa sono stati presi di mira esercizi commerciali del centro storico sono state presi di mira pensate delle imbarcazioni al porto di Fanno e sono stati presi di mira persino dei distributori di carburante nelle aree di servizio lungo la superstrada E78 Tutto questo lo vedremo tra un istante con i servizi di Simona Zonghetti e Lino Balestra Cominciamo dal primo e cominciamo dai primi furti quelli che sono stati messi a segno in alcuni esercizi commerciali del centro sono sempre più preoccupati gli esercenti fanesi per l'ondata di furti che non accenna fermarsi nella città della fortuna la notte scorsa i ladri hanno preso di mira altri due negozi in pieno centro storico il primo colpo è stato messo a segno nella parrucchieria cinese Do Remy in via Lavolini i malviventi che hanno fatto eruzione nel locale sfondando la vetrina hanno rubato il fondo cassa che conteneva poche decine di euro e qualche rasoio poi i malviventi si sono diretti verso la gastronomia Ivan e Ivan in via Montevecchio dove hanno tentato di rompere la porta a vetro ma per fortuna non ci sono riusciti e se ne sono andati a mani vuote quando si è accorto questa mattina? mi sono accorto questa mattina quando sono andato al lavoro che erano le 6-5 le 6 e ho trovato il vetro rotto e ho chiamato subito la centrale di Carabinieri denunciando il fatto perché mi sembra logico denunciare il fatto anche perché ultimamente sono tanti episodi secondo lei con che attrezzo hanno tentato di sfondarla? io sinceramente ho chiamato il vetraio e non è che abbiamo stabilito anche con la polizia scientifica quale arnese sia stato usato probabilmente potrebbe essere anche uno scarpone da uomo pesante dato centralmente come magari una punta di un cacciavite grande puntirolo per cercare di di aprire un attimino anche le mostrine della porta oltre che rompere il vetro mi spiegava che qui non ha un sistema di allarme allora in questo locale in questo momento non mi sembra il locale che abbia bisogno di un sistema di allarme però dato che c'è questo danno vedremo poi in futuro se c'è anche bisogno di questo sistema non è escluso che la banda possa essere la stessa che nei giorni scorsi aveva agito ai danni di altri locali della zona come quelli assediati nella notte tra mercoledì e giovedì tra cui il bar Cicogna in Vienaudi il Total Air di via Papiria e il distributore di carburanti P situato lungo la superstrada tra Fano Sud e Bellocchi sono entrati l'altro ieri notte verso le quattro e mezza hanno forzato la serratura della serranda l'hanno tirata a sua mano hanno forzato la serratura della porta qui d'ingresso e niente dopo sono entrati qui nel nel chiosco lì nella parte ufficio dove teniamo i beni maggiori diciamo a livello di documenti e di soldi e quindi hanno divelto tutto ma hanno fatto tutto nel giro di poco tempo perché dopo penso che abbia suonato l'allarme e che gli abbia spaventati poi dopo sono stati via si è i danni che il fondo cassa sono ancora da quantificare ma Vagnini ci racconta che ha subito un furto anche nell'altro distributore sempre sulla E78 ma in direzione mare tra Lucrezia e Fano qui una volta entrati hanno rubato soldi contanti un blocchetto degli assegni alcune paia di guanti e diversi litri di olio il valore del bottino si aggira attorno ai 5 mila euro proprio questa notte adesso ancora stanno facendo i lavori per ripristinarlo perché lì stesso meccanismo serratura della serranda hanno rotto la porta d'ingresso e sono entrati e quindi lo stesso in poco tempo dopo lì è intervenuta la vigilanza e i carabinieri però tanto i tempi loro sono molto rapidi quindi non hanno non ci sono stati tantissimo quindi quando sono arrivati già erano spartiti la razza nel suo locale però non è stata l'unica perché i ladri si sono diretti anche verso Fossombrone nella stazione di servizio Sasso Nord dove intorno alle due hanno spaccato una vetrata anti sfondamento e si sono introdotti nei locali del distributore anche qui nel giro di pochi minuti hanno raffatto 100 euro e numerosi blocchi di gratte e vinci sul posto sono intervenuti i carabinieri di Fano poi verso le 4 gli agenti del commisariato hanno intercettato i malviventi un gruppo di 4 persone che erano a bordo di una Mitsubishi è iniziato un breve inseguimento verso la zona dell'aeroporto ma sono riusciti a darsi alla fuga abbandonando il fuoristrada e dileguandosi per i campi all'interno del mezzo che avevano rubato la notte precedente all'autosalone New Autostar di Lucrezia i poliziotti hanno rinvenuto diversi attrezzi da scasso guanti un telecomando e un telefono cellulare proseguono dunque le indagini da parte delle forze dell'ordine per cercare di dare un volto ai componenti della banda è dalla superstrada al mare dove come dicevamo alcune persone tre persone sono entrate in azione all'interno di alcune imbarcazioni hanno rubato di tutto vediamo siamo all'interno del motopesca che ha subito il furto è chiara anche la dinamica e il percorso che hanno fatto i ladri da dove sono entrati? praticamente dalla porta secondaria l'hanno scassinata poi sono venuti qui nella plancia hanno trovato i vari schermi i primi due che venivano facilmente che non sono invitati hanno levato i spinotti li hanno presi poi sono andati di sotto nella cucetta e si sono trovati praticamente nel retro hanno scardinato il montante di legno e si sono trovati tutti i computer e da lì hanno levato gli spinotti e hanno portato via tutto poi dopo ci sono messi si giravano per la barca hanno aperto il cassapanco hanno trovato questa valigia rossa e hanno portato via gli attrezzi da lavoro tipo le chiavi inglesi se non la cassetta peserà 30 kg e passa e così la montare del danno più o meno lo avete quantizzato? come strumentazione è da 39.000 euro dai 20-30.000 euro poi dopo gli strumenti e anche quelli del valore economico è successo questa notte siamo accorti dalle telecamere dalle 1.10 alle 1.30 20 minuti hanno fatto i viaggi avanti e indietro la macchina era qui 50 metri scostata dalle telecamere la macchina non si vede si vede queste tre persone vestite di nero ecco ora voi insomma se è possibile fate un appello perlomeno quantomeno di riaverli documenti perché riaverli e rifarli è una procedura lunga sì adesso il nostro appello magari è rivolto più che ai ladri che magari non lo vedranno neanche questa intervista e alla gente magari si trova questa borsa rossa con i documenti o anche documenti vari sparsi in giro con cose dai la motopesca è motopesca tartane sono cose importanti per noi che poi ci vuole molto tempo e finché non avremo questi non possiamo uscire in mare ci sono cinque famiglie che lavorano a bordo e bisogna stare a casa ecco quindi oltre al danno materiale c'è anche il danno economico del mancato incasso perché chiaramente stando a terra non guadagnate sì sì saremo usciti questa mattina oggi e domani per due giorni quindi purtroppo è così adesso quando pensate di riprendere il mare? ah non lo so quando si può una settimana un mese due dipende anche delle capitanerie di Porto o che sia potrebbe essere fra una settimana come potrebbe essere fra due mesi questo speriamo bene quello di fianco al bar perché hanno trovato della roba? siamo qui nel parcheggio della Gimara perché ai componenti dell'equipaggio è arrivata una telefonata che pareva diceva avevano trovato dei documenti qui nei cassonetti ma insomma al momento non è stato ritrovato ancora nulla ed è andata peggio ad un'altra imbarcazione una barca a vela Popeia di Romano Roberti un 18 metri utilizzato per le escursioni dei turisti dove sono state prese tutte le strumentazioni di bordo e quelle utilizzate per intrattenere gli ospiti come l'impianto stereo anche qui danni per migliaia di euro preso di mira anche il flipper che svolge attività di pescaturismo che si è visto svaliggiare persino il frigobar grazie alle telecamere del porto sono stati individuati come diceva anche la persona intervistata il comandante intervistato poco fa tre uomini che hanno operato da luna di notte fino all'una e mezza e poi si sono allontanati a bordo di un'auto il filmato è stato consegnato ai carabinieri la polizia di Fano invece ha arrestato una rumena di 30 anni residente a Chieti che ha rubato prodotti cosmetici per un valore di circa 500 euro giovedì pomeriggio intorno alle 17.30 all'interno del centro commerciale Auschen a Bellocchi di Fano dove la donna si era recata per appunto rubare questa merce che aveva nascosto all'interno di un borsone poi all'uscita la cassa ha presentato una colomba pasquale che ha pagato regolarmente quindi ha pagato il dolce poi se n'è andata senza far scattare l'allarme però i prodotti erano perché i prodotti erano sprovvisti dei dispositivi antitaccheggio però la trentenne non è passata inosservata la vigilanza che ha allertato gli agenti del commissariato di Fano che sono arrivati sul posto l'hanno identificata la rumena ha già dei precedenti specifici è stata arrestata e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria e adesso parliamo della Pasqua la città di Fano è pronta ad accogliere i turisti vediamo la Pasqua anticipata a fine marzo e la concomitanza con le prime nevicate in montagna registrate solo nelle ultime settimane rischiano di penalizzare le località balneari chi sperava quindi che il prossimo ponte pasquale potesse coincidere con una partenza anticipata della stagione turistica deve rifarsi conti almeno per quanto riguarda la città di Fano dove non fioccano le pronotazioni e la permanenza media dei turisti non supera le due notti abbiamo avuto una controtendenza perché fino a giovedì avevamo pochissime pronotazioni in questo momento si è svegliato il mordi fuggi o il last minute e stanno arrivando diverse pronotazioni quello che è importante per noi questi musei aperti queste attività queste feste a livello cittadino nell'entroterra dei paesi che portano gente ma la Pasqua essendo bassa ha influito? tantissimo perché abbiamo avuto Natale Carnevale Pasqua si può dire nello stesso mese pochissima differenza quello che ci ha colpito che la gente con la crisi anche deve scegliere la città di Fano secondo lei è pronta ad accogliere i turisti? diciamo di sì diciamo di sì all'incirca la città deve essere il decoro un po' più curato quello che ci manca è il verde pubblico naturalmente come chiedo sempre una progettazione sul turismo per noi è molto 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 importante e a Fano manca dobbiamo fare un lungomare particolare una sassonia un lido un torrette un ponte sasso che sia rispettato al nostro turismo questa mattina abbiamo fatto visita a diversi albergatori in zona sassonia e quasi tutti hanno preferito non rilasciare dichiarazioni chi per vergogna chi perché aveva appena reperto dopo i mesi invernali e chi invece perché preso dallo sconforto a causa delle poche prenotazioni alla sua struttura ricettiva qualche hotel stagionale ad esempio non aprirà nemmeno per il periodo di Pasqua come stanno andando le prenotazioni? allora al momento abbastanza scarse come prenotazioni per quest'anno almeno come Pasqua sono più gli italiani o gli stranieri? quasi sono gli italiani da noi lei è titolare anche di un altro albergo stagionale lo avete già aperto l'apertura è imminente? al momento per Pasqua è chiuso sì perché tanto non c'era affluenza quindi non era il caso di tenerlo aperto e l'arrivo anticipato della Pasqua quest'anno si vede anche nel lungomare dove le spiagge ancora deserte non riapriranno i battenti almeno fino ai primi di maggio e dove qualche bar rimarrà chiuso ancora per un po' di tempo d'altra parte c'è chi pur di aprire nei prossimi giorni sta sistemando in tutta fretta il suo negozio perché come ci ha riferito una commerciante di articoli da mare giochi e souvenir l'obiettivo è quello di rendere il più accogliente possibile la nostra città di certo il maltempo dei giorni scorsi non ha aiutato la situazione l'amministrazione comunale di Fano ha fatto ripulire sia via Le Ruggeri che la passeggiata di Sassonia intitolata Papa Giovanni Paolo II anche se in molti punti sono rimasti cumuli di detriti rami secchi e sporcizza varia ad aprile poi inizieranno i lavori per la cavea del Lido dove nel giugno scorso è stata smantellata la struttura in legno a causa della mancata manutenzione delle travi deteriorate nel tempo da piogge e salsedine amate fare le passeggiate nel lungomare? eh beh sì siamo qui qui non ci sono le macchine le moto e quindi praticamente siamo tranquilli andiamo al nostro agio ci sono le panchine per sedersi e godiamo un po' l'aria del mare secondo voi ci sarebbe qualche miglioria da poter apportare anche per rendere più bello il lungomare? le migliorie ci sarebbero è la questione che io penso che non arrivano a sistemare eh tutto perché ci sono le spese i soldi c'è in più e quindi è un po' alla meno peggio dai secondo lei che cosa si potrebbe fare? eh ripugire cioè i giardini quindi curare in particolare il verde sì sì il verde in occasione delle festività pasquali da sabato 26 a lunedì 28 marzo a Fano apriranno al pubblico il museo archeologico e la pinacoteca del palazzo malatestiano la chiesa di San Pietro in Valle il bastione San Gallo e la rocca malatestiana quest'ultima ammirabile prima dell'inizio degli interventi di restauro quindi un'occasione da non perdere per visitare il bellissimo esempio di architettura militare rinascimentale della città gli orari di apertura dei siti culturali li troverete sul nostro sito internet occhiolanotizia.it prima di salutarvi vi ricordo che domani sera sabato notte torna l'ora legale quindi le lancette andranno spostate un'ora in avanti il telegiornale è finito tornerà martedì sera puntuale alle 20.30 da tutti noi a voi l'augurio di una buona Pasqua a voi Grazie a tutti.